buongiorno benvenuto e benvenuta bentornati sul mio canale youtube vi do il benvenuto ai nuovi vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale e vi ricordo di attivare la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati ogni volta che io pubblico un video bene un'altra settimana è trascorsa un'altra settimana insieme sono felicissima perché i vostri commenti arrivano arrivano le vostre richieste arrivano le vostre congratulazioni ecco ringrazio tutti voi vi ringrazio con il cuore per essere qui con me oggi voglio parlare di un argomento che mi ha toccato nel vivo ultimamente cioè ciò che gli altri dicono di noi l'opinione altrui quanto l'opinione altrui ci tocca nel profondo e influenza la nostra vita in generale anche nell'ambito sessuale l'opinione altrui influenza molto se ci facciamo influenzare attenzione perché siamo stati cresciuti in un'era e in un'epoca in cui ma gli altri cosa dicono ma gli altri cosa diranno se non lavori in banca se non ti adegui a ciò che vuole la società se sei un po diverso se la pensi in modo diverso l'opinione altrui c'è stato inculcato fin da piccoli che è importante bene io vi sto dicendo una cosa diversa l'opinione che l'unica opinione che conta è la vostra perché ricordatevi che la vita è vostra che gli altri non vivono la vostra vita e di quello che dicono gli altri non ve ne deve importare anche in ambito sessuale questa influenza è molto forte intanto perché non si parla delle proprie abitudini sessuali non si parla di ciò che ci piace neanche con il partner spesso abbiamo questo blocco per cui abbiamo paura a chiedere al nostro partner o alla nostra partner qualcosa che vorremmo provare qualcosa che ci piace perché c'è sempre questa frase che ci blocca ma cosa penserà di me io voglio farvi riflettere su una cosa su una frase che uno dei miei mentori mi ha sempre insegnato se non chiedi sarà sempre un no perché se invece chiedi hai il 50 per cento di possibilità che sia un sì ma se non lo chiedi come puoi saperlo il partner è lì per unire la sua anima con te il partner è lì per togliere i freni e per unire il suo corpo al tuo perché dobbiamo avere paura di quello che pensa di noi perché dobbiamo avere paura di esprimere una nostra fantasia di raccontargli cosa vorremmo i nostri sogni reconditi i nostri sogni nascosti le nostre fan perché dobbiamo avere paura di raccontarglielo anzi più ci lasciamo andare più gli raccontiamo quello che vorremmo più gli facciamo sperimentare più l'unione diventerà magica ascoltate le mie parole più vi lasciate andare più lo coinvolgete nei vostri desideri nelle vostre nei vostri segreti più l'unione sarà forte e questo vale sia per l'incontro di una notte che soprattutto per l'incontro di una vita perché se siete sposati o siete insieme a questa persona da tanti anni i desideri le fantasie i sogni cambiano e man mano che si cresce man mano che si evolve insieme come coppia anche i desideri e le fantasie cambiano e vanno raccontate e vanno sperimentate senza la paura di dire e se gli chiedo questa cosa cosa penserà di me tu cosa pensi di te stessa perché spesso è anche una mancanza di autostima ma se tu sei forte dentro di te e vuoi tirar fuori quel fuoco che hai dentro quella passione quella voglia di riscatto devi solo chiederlo ricordati che molto spesso la persona che hai di fronte non vede l'ora che tu gli dica proviamo facciamo e questo non vuol dire che ogni volta e questo lo dico soprattutto per voi mamme che ogni volta che fate sesso che fate l'amore deve essere una cosa una richiesta nuova una sperimentazione nuova no non ho detto questo ma ho detto che non dovete tenere per voi i vostri desideri dovete esprimerli al massimo cosa succede al massimo l'altra persona dice beh guarda io questa cosa però no magari proviamo questo e vi da un'altra idea ma se avete paura di quello che pensano gli altri vi fate bloccare la vita da altre persone la vita è vostra e ne avete una disposizione non è una prova e poi c'è quella vera la vita è una sola e ricordati che ogni lasciata è persa ogni desiderio che tu prendi e metti nel cassetto e chiudi quel cassetto è un desiderio perso apri quel cassetto tirali fuori i desideri esprimili raccontali chiedili alla persona con cui stai e vedrai che diventerà magia perché io parto da un presupposto fondamentale nella mia vita intanto lascia che parlino con il lavoro che ho deciso di intraprendere non avete idea di quanti pettegolezzi girano intorno alla mia figura che ne parlino bene o che ne parlino male l'importante è che ne parlino perché comunque chi mi ama mi stima e mi dimostra il suo affetto chi non capisce o non posso piacere a tutti rosica l'invidia è una brutta cosa ragazzi per cui ricordatevi siate voi stessi esprimete i desideri che avete anche in camera da letto e soprattutto in camera da letto non fatevi influenzare da oddio gli altri cosa penseranno oddio mio marito cosa penserà di me siate voi stesse e toglietevi i desideri io vi do un grande abbraccio un bacio e vi ricordo che se volete fissare e prenotare una consulenza con me trovate sotto questo video tutti i riferimenti per potervi mettere in contatto vi aspetto un bacio grazie a tutti